Dovrà essere Trampiana, gli USA devono essere... Trampiana, quelli sono un casino di gente, Trampiana che qui si riducono le tasse miliardari, si fanno tagli sociali e perché Sabini non restituisce 49 milioni di Euro che la Lega si è fregata? Così si fanno prima gli italiani, con tutti i parlamentari indagati e condannati che ci sono della Lega, prima gli italiani, con anche le indagini della nuova Tancetopoli in Lombardia, con dietro, lo dicono i magistrati, l'andrangheta e la camorra. Primato alla finanza, sì. Chi paga sostenere gli italiani, tagliano le pensioni, tagliano le spese sociali, i sindacati in rivolta per fare uno sciopero generale, contro qualsiasi vogliono fare il programma della dittatura, del programma di Dicio Gelli, nuova P2, riducono i parlamentari per fare la dittatura, una vergogna. Salvini sempre va a far comizi, feste, televisione, il Parlamento è stato rieletto e non ci andava mai come non va mai all'ufficio al divinare. Una vergogna, anche Meloni, il progetto, il nuovo P2, il presidenzialismo, Licio Gelli, la dittatura, una vergogna.